Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Mondo di Cubi Ragazzi 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 siamo andati avanti con lo scavo e guardate un po' Oh my god Chi è che fa sto rumore o no? Ero io sul tappeto scusate Mi piace Cioè voi non vi potrebbe fare tranquillamente schifo e avete anche ragione a dirlo Però se vi faccio vedere poi come verrà alla fine ci rimanete un po' di stucco E non è un barbatrucco Allora ragazzi dopo questa brutta pessima facciamo un po' di quarzo e ne facciamo già due stack Due stack e vai facciamo così e otteniamo con due stack, mezzo stack di colonne Le colonne le andiamo a positionare Qua ragazzi Allora sarà una cosa molto 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 costosa e con molto molto costoso intendo che non sarà economica Sì Eh lo so I am fucking genius Allora Tac Ok Continuiamo anche qua Bene 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 Ok Qua rimettiamo la torcia Aspettate Track E tac Ok Mangiamo un pezzo di carne Molto bene Abbiamo già fatto solo tre colonne Però Per farvi capire che abbiamo fatto andare metà del materiale che avevamo E abbiamo già fatto pochissimo lavoro E non sarà facile No E mi serve un piccone Che non ho Andiamo a prenderlo Andiamo a prenderlo nella nostra casupola Nel frattempo craftiamo ancora Craftiamo tanto 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 Quarzo No quarzo Oddio cosa dico Tanto Tanta argilla azzurra Ecco Tanta Tanta argilla azzurra E Andiamo a prendere Il famosissimo piccone Made in Cina Allora Dov'è? Piccone Dove arrivo? Andiamo un po' se c'è Ok Questo qua che volevo Sto piccone spacca ragazzi L'ho incontrato poco fa Un ottimo piccone da lavoro Ha efficienza Ha indistruttibilità E Trapana tutto È peggio del drill Ok E comunque Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace molto Questa entrata Sì E ok Ci sta Sì dai Adesso deciderò come fare la parte alta Però così mi piace Dai Sono contento L'ho detto già cento volte Ma va bene Allora Pidiamoci Questo altro materiale E andiamolo a mettere Logicamente faccio già un piccolo stacco Ma prima Voglio parlare di alcune cose Anzi non farò uno stacco Penso che lo dirò adesso Allora Parlo di questi tre argomenti Primo argomento Mi avete detto Di incantare delle armature Visto che ho tutta Tutta quell'esperienza Tutte quelle cose A mia disposizione Però ho visto che Le armature che mi droppano I mob Sono veramente Veramente buone Ne ho veramente tante Anzi non so se ve l'ho fatta vedere prima Sì L'avete sicuramente notate Sono veramente tante E Diciamo con dei buonissimi Incantesimi Ci sono Due Due feather falling Tre Cioè Ci sono delle cose buone E Quindi penso E anzi Sicuramente Utilizzerò Quelle armature lì E Probabilmente Alcune le Rincanterò Comunque però Ok così ci sta Qua andrò a mettere Il quarzo Comincio a farne un angolo Ragazzi C'è un quarto Se riesco già a finire Sto quarto Mi reputerò soddisfatto Allora Il quarzo per ora Lo possiamo mettere Qua Abbastanza sciallamente Perché Non lo usiamo più Per almeno per questo angolo No Altrimenti Dobbiamo Spendere I soldi Veri Per fare Sta roba qua Cosa sto dicendo Non lo so Va bene Allora Devo fare anche i tappeti I tappeti rossi Perché quelli bianchi L'ho fatti tutti Adesso logicamente Deve ancora prendere Un bel po' forma Ragazzi Però Diciamo che Verrà una cosa Abbastanza epica Vorrei che Mi Diciamo Consigliaste Una Un buon tipo di Metodo Per Fare uno Storage Dei materiali Ma Diciamo una cosa Che si possa Continuamente In grandio Tipo un corridoio Con alle pareti Delle casse E io davanti Ho sempre più cose Però poi verrebbe un po' scomodo Oppure tipo Tante stanze Non lo so Consigliatemelo voi Nel frattempo qua Devo andare a eliminare Il superfluo Ok Quando metto Tipo una torcia Per ogni cosa Cioè Ogni torcia Per Una torcia Per ognuna Di questi Così qua Tipo qua Mettero una torcia Ok Qua vi faccio vedere Anche l'efficienza Del piccone Quanto spacca Mi è uscito Un'altra pala Con Oddio Efficienza assurda Ma soprattutto Con Come si chiama Sì il touch Ok Tocco di velluto Ok Allora Andiamo a mettere Tutta questa roba qui E vedete che Comincia a prendere forma Sì così È decisamente Epico Decisamente Ok E purtroppo anche oggi Il tempo per registrare Non è molto Ragazzi Infatti io volevo parlare Anche di questo In sto periodo Sto veramente Facendo molta fatica Perché Sto per prendere la partner Non voglio dire con chi Però la sto per prendere E non la prenderò Di certo con social blade O con bad my video E cose così La prenderò con Un buon network Però Ho bisogno In questi giorni Appunto di Molto Molto Lavoro Cioè devo lavorare molto Perché Appunto ci tengo Questa cosa Perché Avendo Certe cose Che dà la partner Potrò fare Delle cose Anche su youtube Automaticamente E E io ve lo dico Tranquillamente Apertamente Non sto lì A non dirlo A evitare Per 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 Le hater So queste cose qua Me ne sbatto Me ne sbatto Abbastanza Lo dico Tranquillamente Perché comunque È giusto Che ve lo sappiate Siccome Siete anche voi Diciamo Anzi non Anche Siete Praticamente Solo voi A cui Diciamo Le persone A cui devo dire Grazie Qua penso Che questi Quattro Stacche Di quarzo Me li Sparo via Tutti Mi sa proprio Di sì Ok Che delusione E direi 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 Che Adesso Mi mangio Altra carne E vado Anche a dormire Perché Altrimenti Io ci rimango Qua Ci rimango Vero Sì Perché Diventa Un covo Di mob Assurdo Ok Ok Ragazzi Altro argomento Vediamo un attimino Oddio Calma Voglio vedere Se salto E premo il libro Rimango tipo volante Ok Mi avete Dato un commento Che diciamo È il migliore Del giorno Che non Mi ricordo Che l'ha scritto Chiedo scusa Però Non Riporterò Diciamo Perché È una cosa Abbastanza diversa Mi hanno tipo Detto di fare Un Un Sistema di cottura O comunque Di mettere delle fornaci Nel nether No E beh Io ho deciso Di fare Quel famoso giardino Che volevo fare Che avevo accennato Nello scorso episodio Nel nether Lo farò Sopra la bedrock Visto che abbiamo Questa idea Utilizzando Quest'erba qua Che da proposito Voglio risparmiare Quindi me la metto Nelle casse Ok Uh Qua ho anche un piccone Da incantare Volendo Vediamo se riesco a incantarlo Penso O più di no Però Proviamo E No Me lo incanterò E niente ragazzi Quindi appunto Dicevo che Cercherò Oddio Dove l'ho messo Il piccone Ce l'ho nel inventario Pollo Cosa volevo dire Ancora ecco Cerco di fare Questo giardino Ogni tanto Mi impappino Un pochettino Ragazzi Anche perché Sono un po' demolito In sti giorni E E niente ragazzi Appunto Andrò a Oddio qua C'è una torcia Per favore Non ti spawnare Mob Mob Non ti spawnare Please Oddio Adesso si spawna Il mondo Ragazzi Ok Tac Torcia Ok Così vedete anche voi E Si sono abbastanza morto Però sto cercando Comunque Come vi dicevo Prima di fare Un video al giorno E mi sto impegnando Veramente molto Per questo Spero che possiate Apprezzare Tutti quanti Questo sforzo E Comunque Non è per niente facile So che ci sono Youtuber Che fanno Molto di più Però Sono anche Youtuber Magari che Se lo possono Permettere Io non sono Al momento Nella situazione Di poter perdere Così tanto tempo Anche perché Ho tanti impegni Credetemi Poi magari in un vlog Che farò più avanti Vi spiegherò tutto E Andiamo ragazzi Quindi Adesso qua Devo finire ancora Un bel po' Di Questa cosa E Ne ho fatte Metà giusta Sì ne ho fatta Metà giusta E Anche se Andrò a mettere Altre due colonne lì E altre due colonne qui Cioè ne metterò Un bel po' Quindi il quarzo Sicuro non mi Basterà a sto punto E Come appunto Questo Cosa ho sentito Ho sentito un rumore Vabbè vabbè E Appunto dicevo che Qua vedete che avevo scritto Cottura A 64 Nether Ovvero che In quel giardino Metterò un sistema Di cottura Che sarà Un sistema Di hopper Che porterà Giù Dei secchi E li andrà A far riempire Nella lava E Li riporterà su Perché dei secchi Di lava Perché i secchi Di lava Possono cuocere Fino a 64 Cose Quindi andrò A cuocere A stack Quindi sarà una cosa Abbastanza epica Ok qua purtroppo Mi tocca metterci Un bloccato di terra Fuori Veralon E Sì Non mi basta il quarzo Andremo a raffinarne altro Anzi lo raffiniamo subito Così nel frattempo Vi parlo dell'ultimo Ultimo argomento E Appunto Questa cosa qua Che vi ho appena detto È anche per motivare Il fatto che Ogni tanto i video Non sono da 20 minuti Cioè i video li faccio In base a quanto tempo ho E a quanto Soprattutto voglio di giocare Perché magari Alcuni giorni Potrò avere tantissimo tempo Ma non avrò voglia di giocare Perché comunque non è Che uno Tutti i giorni Ha voglia di giocare A minecraft Anzi probabilmente Farò anche altre cose E Però Questo lo vedremo più avanti E Anche i multiplayer Se volete Cioè Ditemi un po' nei commenti Anche voi cosa volete Cosa vorreste vedere Qualche serie Diverse da minecraft Ma vi dico già Che sarà più avanti E Dite voi Comunque qua Abbiamo il nostro Quarzino Il nostro Quarzito Lo prendiamo tutto E andiamo a Raffinarlo Nella nostra stazione Di raffinaggio Che è ancora Da fare E Quindi è un po' Un controsenso Dire che ce l'abbiamo Ma va bene Allora Mentre lo piazzo Appunto vi dico Vi parlo dell'ultimo Argomento Che è La raccolta Di drop Nella farm Ok questa cosa Penso che la farò Forse anche in questo episodio Allora praticamente Ho notato Che quando io Utilizzo la farm Di scheletri Visto che Siamo già stati Sufficiente tempo In questa zona I mob che si spawnano Non sono più Nella maggior parte dei casi Scheletri normali Ma bensì Nella maggior parte dei casi Sono scheletri Con l'armatura Scheletri con l'arco incantato Scheletri con Comunque delle cose E Avere l'armatura Ogni pezzo D'armatura che si ha Dà la possibilità Di Dà una percentuale in più Di essere droppato Quindi se io Sono uno scheletro E ho Più armatura Rispetto a un altro È più facile Che io droppi Un pezzo Della mia armatura Perché Ne ho di più E appunto Mi cominciano A Faccio anche vedere A droppare Centinaia di armature Guardate quanta roba Mi hanno droppato E qua mi ricollego Il discorso che facevo prima Dell' Dell'utilizzo Dell'armatura Appunto andrò Vedete il primo discorso Che andrò a utilizzare Le armature droppate Quindi nel frattempo Guardate quanto Cavolo di quarzo Ho una maniera Una cosa assurda Ma Non basterà Perché il quarzo È costoso Dà tanta esperienza Ma non basta mai Purtroppo È brutto È brutto da dire Ma è così Ok Qua ne abbiamo ancora un po' Andiamo a mettere Anche questo ultimo Spero quarzo Che Se no Vi annoio E E niente ragazzi Quindi Direi che Gli argomenti Li ho detti tutti Questo Oddio Perché ho scritto E non lo so Questi Sistemi Queste cose Che ho scritto Questo sistema Di raccolta Drop Lo andrò a far dopo Ma non è niente di che Si tratta Semplicemente Di un hopper Vi faccio vedere Posizionato Al posto Di questo blocco qua Che Con un Diciamo Un tappetino sopra Che Porterà le cose A questa cassa E E niente E poi da questa cassa Potremo eventualmente Fare altri hopper Che scendono di sotto Il piano sotterraneo E smistano automaticamente Anche se Mi sembra un po' Una cosa inutile Perché abbiamo solo Tre cose da smistare E O comunque Cioè non avrò Una cozzaglia di drop Qua inutili Avrò questa cassa E questo Darà una grossa Grossa mano Ok Detto questo Direi Direi che Posso fare un'altra cosa Ovvero andare A rompere Questi due blocchi E invece che tenere due cassa Tenere quattro Ma questo qua Lo vediamo poi dopo Penso che Lo farò Off camera Anche questo E Ok Adesso andrò a prendere Il mio piccone Con fortuna Dov'è Eccolo qua Anzi quello Con efficienza Proviamo Che dovrebbe andare più forte Così magari riesco Anche a raccogliere Tutti quanti adesso Vi faccio notare una cosa Guardate il quarzo Quanta cavolo Di esperienza Da Fateci caso È il materiale In assoluto Che dà più esperienza Di tutti Guardate qua Mamma mia Una cosa assurda E penso che Andrò anche un po' Nel nether E senza portarlo Qua col Seel touch Lo prenderò Direttamente Perché faccio andare Solo degli utilizzi Per i picconi Ehm Ah piccola nota Che non vedo Sul seal touch Si può usare Per raccogliere Tantissime cose Come l'erba Come C'è l'erba Appunto come vi Vi ho fatto dire prima Come il ghiaccio Come il pack Ed ice Cioè il ghiaccio Compattato Se non sbaglio Sì qualcosa del genere Mangiamo Altra carne Insomma si può usare Veramente per tantissime cose Qua nel frattempo Vedete che Ho parlato un secondo E sono già A quasi 20 livelli Perché appunto È una cosa Assurda Questo quarzo E guardate qua Quanto ne sto farmando Una cosa Devastante Ehm E niente ragazzi Qua scusate Metto un secondo in ordine Ok Ehm Spero di finirlo tutto adesso Non voglio farlo stacco Voglio finire di raccoglierlo Scusate E niente appunto Vi ho parlato Dei soliti argomenti Del giorno Che Cercherò sempre Di parlarvi Magari un po' di più Nel tanto Perché comunque Anche è giusto parlare No Siamo in un video Non mi sembra il caso Di fare solo Lavoro off camera Perché ho notato Che C'è molto Lavoro off camera Ah e Un'altra cosa Mi avete chiesto Ancora in tantissimi Di aumentare La durata del video Ragazzi Ehm Come ho detto prima Oltre al tempo Tutte queste cose qua Ci sono anche persone Che Magari Il video di 20 minuti Non riescono a guardarlo Quindi Farne da 15 Ok Qua abbiamo Una cosa assurda Di quarzo Magari riusciamo anche a finirlo Cioè a finire le colonne Ehm C'è molte persone Magari non ce la fanno Quindi Cerco di accontentare tutti Come faccio Come ho sempre fatto E come farò sempre Cercherò di accontentare tutti Ehm Anzi Come avete chiesto in tanti Farò anche di video Magari di collaborazione Perché comunque Ehm Così mi vedete anche Con qualche altro youtuber Ok Qua nel frattempo Altro quarzo Cioè calcolate che con Uno No Con quattro stack Di quarzo E ottengo Ehm Uno Di questi Di questi pillar Ehm Abbastanza una fregatura Direi Però va bene Allora Qua Buttiamo giù tutto E lo ripiazziamo bene Ok Perché Perché diciamo che si orienta Verso al punto In cui è stato Piazzato il blocco Quindi è un po' Un casino Detto questo ragazzi Direi che faccio Un piccolo stacco Si direi che faccio Un piccolo stacco E ci vediamo tra poco Ok ragazzi Edì eccoci E voilà Guardate qua Che lavorone Che ho fatto Quarzo Clay Torce Mattoni Ho veramente utilizzato Materiali che Non credevo Che avrei utilizzato Per la costruzione Di questo Di questo posto Adesso qua Sto andando a mettere Anche il tappeto rosso Proprio per essere Chic Ehm E niente Metterò appunto Ancora il tappeto rosso Che non basta Appunto Però verrebbe una cosa Di questo genere Anzi ci faccio già Uno screen Perché è veramente Una cosa epica Quindi Screenshot A manetta Ok Ehm E niente ragazzi Direi che comunque Per questo video è tutto Io come al solito Vi ringrazio Alla fine Il progettino Dell'opper Lo faremo nel prossimo episodio Perché voglio fare Una cosa un attimo Più complessa E E niente ragazzi Quindi io Come al solito Vi ringrazio Vi invito a lasciare un like Perché youtube è stronzo E A commentare Per essere salutati Per Darmi dei commenti Su cosa Come fare Il sistema di storage O cose così Iscrivervi Se volete continuare A seguire questa serie E vedere come continuerò E Niente ragazzi Quindi Io spero che il video Vi sia piaciuto Un ringraziamento speciale Ancora a tutti Ehm Sono sempre disponibile Per ogni commento Anche sulla pagina facebook Ehm Sono anche risposto A chattare Fate cosa volete Quindi io vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti